Anche in quella del Senato ci sarà modo, avremo tempo, di poterne ripartare, riparlare e di poter dare una mano in modo che, come dire, esca un decreto, dato che si tratta veramente della vita economica dell'Italia, il più condiviso possibile. Grazie. A questo punto avrebbero facoltà di replicare la relatrice per la Commissione Finanze e il relatore della Commissione Attività Produttive. Io mi pare di capire che non vi ha intenzione di replicare, neanche il rappresentante del Governo ha intenzione di replicare e quindi il seguito del dibattito è rinviato all'altra seduta. Approfitto per salutare il terzo circolo Roncalli di Altamura, in provincia di Bari, bambini e insegnanti che assistono ai nostri lavori dalla tribuna. Sospendiamo adesso la seduta per cinque minuti. La seduta è sospesa. Grazie. 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 Grazie.